Assessore Palmieri, al Guglielmo Marconi a parlare di reti d'impresa in maniera particolare di garanzia giovani e i suoi frutti? Sicuramente i giovani hanno necessità di conoscere quali sono le misure che le aspettano al termine del percorso di studi. Devono puntare ad una oculata costruzione personale e professionale del loro futuro e dunque devono conoscere tutti gli strumenti. Oggi qui anche a parlare del digitale e di quali sono le nuove professioni, cosa gli aspetta, quale sarà il loro futuro. Bene, abbiamo anche un parterre molto forbito e dunque le imprese daranno la loro voce, si faranno sentire forte e chiare quale sarà il mercato del lavoro. La regione Campania è vicina con tante misure, sia con un progetto Java che punta ad accogliere le migliori performance, la migliore preparazione dei giovani anche con un bonus di 5.000 euro ad allievo. E poi parliamo di garanzia giovani che con la nuova programmazione darà molte, molte occasioni. Abbiamo 220 milioni che saranno destinati a tutte le misure per i giovani, questa volta fino a 35 anni. Questa è una novità che abbiamo introdotto insieme al governo, che stiamo cercando di portare avanti e quindi dobbiamo esclusivamente lavorare molto e i giovani debbono metterci l'oro, debbono seguirci e soprattutto ragionare come dei piccoli lavoratori. Stamattina abbiamo un'esperienza bellissima perché per la prima volta in un istituto tecnico professionale come questo di Verano, di Marconi, che è un'eccellenza per noi e lo diventa ogni giorno di più, c'è un incontro che porta gli studenti vicino alle imprese. Questo che significa dal punto di vista pratico e anche dal punto di vista del territorio e della politica, che queste imprese hanno stamattina un occhio di riguardo per il nostro territorio, cioè hanno un faro acceso puntato sulla nostra comunità. Quindi io ho invitato prima i ragazzi, che poi non sono solo di Verano, ma di tutto il territorio, il comprensorio dell'Alto Casertano, ad eccellere in quello che fanno, ossia a portare sempre una nota di eccellenza in ogni settore. La scuola è composta da vari diritti, dall'aeronautico al tradizionale, all'alberghiero, alla ragioneria, quindi ha veramente delle potenzialità grandissime e speriamo che queste aziende colgano in questi indirizzi, in queste potenzialità, un nuovo spunto per investire su questo territorio. Naturalmente ringrazio la Presidente Rossi, che ha voluto fortemente questo incontro qui a Vairano, e l'assessore Palmeri, che, come lei diceva, è del nostro territorio e quindi la ringrazio per l'attenzione che gli dà, ma che stamattina porta delle esperienze pratiche di lavoro vissuto e creato e non atteso, come spesso accade in questi territori. Noi fondamentalmente siamo un'Unione Nazionale di Imprese, un'associazione natoriale che è presente su tutto il territorio nazionale e che di fatto favorisce le reti nei e sui territori sia per la creazione di imprese territoriali, sia per la formazione, la riqualificazione, l'aggiornamento e l'accompagnamento nel mondo del lavoro. Abbiamo la necessità di avere delle figure professionali valide da inserire all'interno delle micro, piccole e medie aziende che rappresentiamo e che hanno dei bisogni particolari e specifici naturalmente legate all'innovazione tecnologica.